Si potrà mai continuare a commettere un reato avendo sulle spalle una condanna in primo grado in attesa di udienze in appello? Stando ai riscontri da Scuola Mobile di Pescara e quanto avrebbe fatto Carmine di Felice nei confronti dei poveri Nadia e Bartolo ed è per questo che è da ieri rinchiuso nel carcere di San Donato. La sentenza è del marzo 2023, il 41enne di Pescara condannato a due anni e sei mesi con una provvisionale di 15.000 euro ciascuno per Nadia Baldacci e Bartolo Beninato. Gli anziani coniugi affetti da problemi psichici ai quali avrebbe estorto la fiducia per anni sottraendo loro ogni mese quasi tutta la pensione. I legali di Di Felice hanno fatto ricorso in appello nel luglio del 2023 e si era in attesa dell'udienza all'Aquila. Tuttavia in questo frangente, stando a quanto sono riusciti a scoprire gli agenti della Scuola Mobile di Pescara guidati da Gianluca di Frischia, Di Felice, da uomo libero, come si conviene dopo una sentenza di primo grado in attesa della secondo, avrebbe continuato in perterrito a farsi consegnare gran parte della pensione dai due coniugi, nonostante fossero tutelati da un amministratore di sostegno. Per far capire il livello di soccombenza di Nadia e Bartolo nei confronti del loro aguzzino, quasi certamente il loro amministratore, ma sicuramente i loro legali, erano all'oscuro di tutto. Non sapevo nulla, nonostante sono rimasti clienti, quindi stavamo aspettando, avendo proposto appello, stavamo aspettando la data dell'udienza. Non sapevo assolutamente che lui continuasse a estorcere il denaro al mio cliente. Incredibile come tra una condanna di primo grado e l'attesa dell'appello, questa persona abbia continuato a fare indisturbato quello che faceva prima. Sì, questo è sicuramente incredibile, inammissibile. Un reato già squallido di per sé è diventato veramente un atteggiamento abomilevole da parte del Di Felice. Ma è certamente un provvedimento necessario affinché almeno questa cosa in questo momento finisca. Hanno continuato e continuano a tutt'oggi a mantenere rapporti con me, nonostante io non sia più il loro legale, perché si è instaurato un certo rapporto di fiducia. Fiducia che loro difficilmente riescono a riporre in persone estranee. e inizialmente anch'io ero per loro una persona estranea e quindi ho avuto non poche difficoltà a fare in modo che loro si fidassero di me. Tanto non è stato che attualmente loro hanno continuato e continuano a tutt'oggi a contattarmi, talvolta anche venendomi a trovare. E quando qualche volta io ho provato a chiedere loro di Felice, loro mi hanno detto che non lo hanno più visto, non lo hanno più sentito o comunque non vi era traccia di questa persona. Per cui sinceramente anche a me ha molto sorpreso quello che è accaduto. È davvero incredibile, stando a quanto hanno ricostruito gli agenti della squadra mobile di Pescara, si parla di quasi 30.000 euro sottratti. Sì, perché sostanzialmente quella è la pensione che Bartolo e Nadia percepiscono mensilmente, cioè sono le uniche entrate a loro disposizione. e purtroppo anche queste sono state sottratte nell'arco di questi anni, ahimè.